Rafforzare il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, per l'integrazione dei migranti e impedire che la politica di coesione attuale venga svilita in favore dell'innalzamento dei muri e del controllo delle frontiere. Questo quanto chiesto dal Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi presente a Bruxelles ai lavori della sessione plenaria del Comitato delle Regioni nella parte dedicata all'immigrazione. Occorre ambizione, occorre coraggio, occorre un bilancio dell'Unione Europea che faccia fronte alle nuove sfide, importanti, giuste, difesa, frontiere, immigrazione, sicurezza e allo stesso tempo investa nel sociale per l'occupazione. Rossi ha spiegato che c'è una contraddizione tra l'agenda europea sulla migrazione del 2015 e il futuro quadro finanziario pluriennale che propone agli Stati membri di assegnare più risorse a difesa, sicurezza e immigrazione ma immagina tagli alla politica di coesione. Il Parlamento Europeo e le Regioni si stanno battendo per una soluzione positiva. Ci sono in Europa, è vero, nuove necessità, la difesa, la sicurezza, l'immigrazione, le frontiere. Bisogna trovare risorse aggiuntive e non ridurle per le politiche sociali, per le politiche, cioè per la crescita, per l'occupazione, per lo sviluppo. Quindi è in gioco il futuro dell'Europa. Per il Presidente della Regione Toscana, affinché il sistema sia sostenibile, occorre evitare un'eccessiva concentrazione di migranti su uno stesso territorio, ma favorire una diffusione attraverso il coinvolgimento di enti regionali e locali, come è stato fatto negli ultimi anni in Toscana.